Giorgia Ruggero, Assessore ai Grandi Eventi del Comune di Richelino, finalmente San Matteo 2018 è iniziato. Finalmente è iniziato San Matteo, direi che ormai è un anno che ci muoviamo con l'organizzazione, i dettagli che quasi non ci sembra vero di essere partiti con l'inaugurazione. Quest'anno ci aspettano una serie di novità e di intrattenimenti per tutti i gusti, passando dal martedì 18 con il balla al pacchetto per il liscio, per la terza età. Poi avremo due ospiti di punta molto importanti, uno è Fred De Palman, un rapper molto conosciuto nel panorama giovanile, e poi una cantante di altissimo livello che è Antonella Ruggero, che a suo seguito ha una band davvero molto conosciuta e di grande talento. Una chicca per quest'anno, sicuramente la rievocazione storica, che quest'anno è la seconda edizione, che hanno ampliato i componenti della battaglia, infatti quest'anno ci sarà anche la cavalleria a partecipare all'evento. Vi aspettiamo tutti per un San Matteo ricco di emozioni. Grazie.